Limoni Cultura Veniamo intanto da una stupenda giornata inaugurale in cui c'è stata un'enorme partecipazione di pubblico al punto tale che non abbiamo potuto ospitare tutti nel modo adeguato in un luogo di grande suggestione che è il Palazzo Berlomo con un programma che ha suscitato emozioni in tutti quanti e quindi siamo molto contenti. Stasera si replica con un programma completamente diverso, invito tutti a venire perché stasera non piove, mi gioco la reputazione e quindi di stare tranquilli anche se quest'acqua per noi, per gli agricoltori è stata benedetta. Abbiamo fatto la danza della pioggia per quest'acqua. Quindi oggi sarà un'altra bella giornata interessante, parleremo di profumi, parleremo di birra al limone, ci saranno degli interventi artistici importanti, ci sarà Francesco Pepe che presenterà il suo lavoro. Lui peraltro ha scritto le musiche originali per lo spot sul limone di Siracusa IGP. Sarà possibile visitare con delle guide, dei critici d'arte importanti, il museo e quindi la galleria che offre alcune delle testimonianze più importanti sotto il profilo artistico. E quindi stasera il museo si apre alla città. Avremo delle degustazioni anche queste di grande qualità come è avvenuto ieri sera, purtroppo non abbiamo potuto soddisfare le esigenze di tutte. E domani ci sarà un'ulteriore giornata che è quella un po' più istituzionale con autorità, imprenditori, stampa italiana e straniera. Per questo incontro in cui affronteremo i tempi del mercato, degli scenari di mercato, verrà il vice ministro dell'agricoltura, l'assessore regionale all'agricoltura, il commissario del ministero delle politiche agricole, il vice presidente nazionale di Confindustria. Quindi insomma avremo personalità di grande spessore, ruolo e importanza per poter affrontare i temi anche dell'economia. E la presentazione invece questa sera è di quello che sarà Eau de Syracuse? Eau de Syracuse è una sorta di cameo che ci ha voluto regalare questa profumiera francese che si chiama Clemence Bess. Con lei abbiamo già lavorato a Parigi nel contesto dell'evento che abbiamo tenuto all'Istituto Italiano di Cultura, all'Ambasciata Italiana di Francia. Lei ha lavorato molto sugli oli essenziali del limone di Syracuse e quindi stasera sarà un'anteprima perché voglio ricordare a tutti che gli oli essenziali del limone di Syracuse sono utilizzati dalle più grandi case profumiere del mondo. Clemence ha lavorato per alcune di queste grandi case e adesso sta producendo in proprio una fragranza in cui il limone di Syracuse ha un carattere prevalente. Grazie. Grazie.